La preghiera per noi musulmani, prima di tutto la preghiera deriva dalla, cioè il significato è proprio collegamento, infatti è un collegamento tra il musulmano, il fedele e Dio, perché ci rende più forti internamente, comunque quando uno prega 5 volte al giorno, sicuramente Dio deve essere sempre ai nostri cuori tutto il giorno, però comunque ci rinforza internamente e appunto su questo argomento della preghiera il profeta Sallallahu alaihi wa sallam ci ha detto un detto dicendo che quando un fiume passa davanti alla casa di qualcuno e questa persona va a lavarsi 5 volte al giorno, è impossibile che il fiume lasci la sporcizia comunque sul corpo della persona, e appunto questo significa che la preghiera è un atto che ci allontana dalle cose, dai peccati.